L'informazione di attaccamento alla libertà e gli insopprimibili diritti dell'uomo. Voi tutti sapete che questo è l'inizio, è l'aulico inizio, della motivazione del conferimento della medaglia d'oro alla città di Biella. Con decreto a Presidenza e Repubblica 3 marzo 1980, l'indimenticato e indimenticabile Presidenza e partigiano Sandro Pertini onorava la nostra terra decorandola di medaglia d'oro al valore militare, al valore militare. E' incontestabile, ma per meriti di resistenza, ma per meriti di resistenza è altrettanto incontestabile. Fu proprio Sandro Pertini che appose quel preziosissimo simbolo sul gonfalone della città, il 4 ottobre del 1981. In queste parole che io ho definite auliche si racchiude il senso e la ragione di questa commemorazione. Andiamo con la memoria e riportiamoci alla realtà di questa terra tra fine maggio e inizio di giugno del 1944. Ancora l'eco doloroso, dopo 17 giorni di un eccidio feroce, quello di Motterciata, 20 ragazzi partigiani, fucilati al cimitero di Motterciata. Vittime di Caino, perché non fu un'azione di guerra e neanche fu un'azione di rappresaglia, avevano confidato, come umanamente si confida, nell'ospitalità a loro offerta. Venivano dalla pianura e avevano trovato rifugio in questa cascina. Credevano fosse spitalità. No, l'inganno soporifero e la delazione da parte di Caino, un Caino che è all'inizio dell'umanità ma che ahimè è ancora vivo e di tanto in tanto ritorna. In questa atmosfera di tristezza, userei dire di angoscia, avviene il rastrellamento iniziato nella zona della Valle Elvo il 28 maggio. C'è un precedente. Il 25 la Repubblica Sociale emana l'editto definito perdono. Un ultimo appello. Chi non l'ha fatto finora e ha rischiato la morte, può ancora evitare la morte ruolandosi nella Repubblica Sociale. La risposta fu miserrima rispetto alle aspettative e allora si passò all'azione. Chi non ubbidisce merita il castigo, merita di essere trucidato. 400 partigiani circa, un numero consistente. I raggruppamenti Caralle e Bixio, che si trovano nella zona dell'Alto Valle Elvo, vengono accerchiati dalla base verso il vertice. Ci sono scontri a fuoco. Quattro partigiani cadono. Inevitabilmente, anche se qualcuno riesce a passare tra le maglie del nemico, la maggior parte o comunque un numero consistente, pare a 13, viene catturato. L'azione nazifascista si è sposta nella zona della Serra di Ivrea e li vengono catturati altri sette ribelli, come venivano chiamati. Vengono richiusi nel carcere del piazzo e deciso e comunicato loro che saranno fucilati. L'alba del 4 giugno 1944, 80 anni fa, un lugubre corteo parte dal piazzo, attraversa la città e una corriera scortata. Ci sono i destinatari della condanna a morte, ci sono i militi repubblichini che eseguiranno la condanna a morte. Vengono portati su questa piazza, distribuiti in gruppi di 5, più uno di 6, l'ultimo, e avviene la fucilazione. A questo punto, sospendo il mio intervento, do la parola a Luciano Guala e a Elisabetta Fabri, che ci faranno rivivere, come fosse oggi, quello che avvenne quel giorno, con il racconto dei carnefici e con il racconto delle vittime.